Signori all'ascolto, buonasera. Siete collegati in diretta con il Giant Stadium del New Jersey. Sei pronto? A tavola! Ho firmato quella Fiorentina per 2 miliardi e 700 milioni. Così mi ripaghi i vetri che hai rotto in officina? Tu per noi sei come Maradona per l'Argentina. Maradona è buddista, pure tu vuoi che è buddista. Guarda che a me non mi converti. Il nostro mondiale comincia ora. Se ogni volta che tocco la palla io la devo dar via di prima, come faccio fare non so un dribbling? Vesi solo a te steso, non fai gruppo. Ma forse i tecni trattavi sempre peggio degli altri, invece di credere in me una volta. La cosa importante che devi capire è che dipende tutto da te. Se vuoi, ammazzami. Non devi dire neanche per scherzo questa roba. Neanche per scherzo. Più di vent'anni in un pallone Più di vent'anni da spentare il rigore Mi hai fatto vedere che sei umano. Puoi scoprire che è la vita. Sì, è che determini la tua esistenza. Quindi adesso te ti alzi. L'uomo dietro è il campione Allora che vuoi che ti dica che ti porto al mondiale? Giovanni, questo è l'ultimo mondiale per Roma. Ha bisogno di noi. Ha bisogno della sua famiglia. Perché siamo contenti. Di cosa? Che giochi con noi. Ancora non ci vediamo. Tutti passano la palla al baggio e te fai gol. Guarda che sei te che devi credere in te stesso. Se fosse la vita Non so potrà sembrarti un'esagerazione Ma pure quel rigore Ha mi insegnato un po' la vita Ma pure se è proprietà Per iemand Obedi un'esagerazione Ma pure se è illegittima Calle